Presidente della BCC, dottor Grazioni, territorio è anche sport e stasera c'è la possibilità di congratularsi con chi in questo territorio ha dato una grande spinta per la valorizzazione di Treviglio, anche perché vince una squadra, ma c'è un settore giovanile sicuramente di prima qualità. Il basket a Treviglio è un esempio ed è uno dei motivi e delle ragioni per cui questa città è importante, questa sera abbiamo concluso un campionato esemplare, tante tante congratulazioni per un risultato stupendo e adesso ci torneriamo anche qualche soddisfazione nei play-off, grandi ragazzi, grandi alla società, lo staff degli allenatori perché è stato un anno entusiasmante. Bene, grazie a lei Presidente, speriamo di trovarla ancora in questi momenti di successo.